Ha stupito coach e pubblico Suor Cristina, presentandosi sul palco di The Voice e intonando No Wandia e Alicia Keys. La giovane suora non ha però negato la sua storia, raccontando di fronte alle telecamere del talent show di aver avuto un passato ribelle e di aver scelto la fede solo recentemente, dopo aver interpretato Suor Rosa in un musical organizzato dalla Star Rosa Academy, la scuola fondata dalle Orsoline e diretta da Claudia Cole. Quello è stato il momento in cui Suor Cristina ha capito di essere destinata alla religione, ma prima di prendere il velo, la ragazza, che ha solo 25 anni, ha transitato per altri talent, provando ad entrare senza successo sia ad X Factor che ad Amici. Suor Cristina non è neanche nuova ad apparizioni televisive, nel 2013 ha infatti partecipato al Good News Festival, una gara canora in onda su TV 2000 e di ispirazione cristiana. Insomma, per Suor Cristina il canto è una ragione di vita e chissà che The Voice non sia finalmente la sua occasione per dimostrarlo.